1, 2, 3 Benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Cassinesi ad una nuova puntata in diretta da Radio Show Oggi parliamo di Isabel che presenta la nuova collezione estate 2023 di costumi donna, linea, dolce, mare, interi e due pezzi con vasta scelta di colori e taglie Vi faccio vedere qualche esempio, ecco qua, perfetto, si vede benissimo, posso assicurarvi che sono dei modelli esclusivi arrivati proprio in questo istante Nuova linea estate 2023 di costumi dolce mare da Isabel Ecco qui un altro bel due pezzi, dettaglio particolare, guardate questo costume Ancora Spettacolo Faccio vedere anche nel dettaglio la qualità e il modello Perfetto Ancora Perfetto anche questo E quest'altro per completare Poi inoltre trovate anche boxer mare, uomo, a partire da 10 euro Sleep e parigamba, uomo, della lotto, a partire da 15 euro Costumi per bimba, bimbo, della Disney, della Marvel Inoltre teli mare, tipo spugna microfibra, a partire da 10 euro Disponibile anche con tasche laterali per lettino Poi borse mare, copricostume, in cotone, leggero Tutto questo e molto di più per questa estate da Isabel Via Postumi a numero 2, trani, per info, numero whatsapp 375 653 2113 Oppure contattate il numero di telefono 0883 3955 994 Marecatevi direttamente da Isabel perché Isabel è di tutto di più Mi raccomando, vi aspettiamo da Isabel Ciao 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 Ciao